Andiamo! The game begins in 3, 2, 1... Ricordiamo alla squadra 31 e 62 di prepararsi al cancelletto di partenza. Tifo, vogliamo sentire Tifo ragazzi qui, oppure ve ne uscite tutti, Tifo! La squadra 31 e 62 pronte al cancelletto di partenza. Un minuto! Abbiamo 50 secondi ragazzi, forza! Ma cosa stanno dicendo? 30 secondi scarsi! 10 secondi! Un applauso, bravissimi!